Indossa la tuta da meccanico, ma di jeans molto alla moda, capelli sciolti, un velo di trucco e guanti per armeggiare nei motori. Giovanna Parascandolo, 23 anni, si diverte ad aggiustare vecchie Fiat 500 in un garage di Roma. Fa in un certo senso la restauratrice, una passione, quella per una delle auto più famose al mondo, nata tempo fa quando salì per la prima volta sulla 500 di un'amica e ne rimase affascinata. Le avevo sempre viste spesso dall'esterno, in giro per Roma, e pensavo fossero delle macchine buffe, cioè niente di più. Invece poi quando sono entrata dentro ho detto proprio, vabbè ma stupenda questa macchina. Le vecchie 500 sono molto ricercate, per acquistare la sua, un modello del 67 messo male per 2000 euro, ha venduto la moto e ci ha impiegato due anni per metterla a posto, ha fatto tutto da sola, soprattutto grazie al web tra tutorial e forum, rivolgendosi a un carrozziere in pensione solo per i dettagli più complicati. All'inizio su Google ho detto, ma perché non parte Fiat 500? E da lì poi è nato un anno di studio, dove veramente mi sono comprata fra libri, ricerche sui forum, e tantissimo ho imparato smontando le cose. Nel suo Nanna's Garage, un vecchio magazzino, ora lavora questa 500 del 68, il suo prossimo progetto. Conta di sistemarla e rivenderla per circa 10.000 euro, ma richiede molto lavoro. Spero tre mesi, spero di farcela in tre mesi. Lei, laureata in architettura, si è reinventata secondando una passione. È vero che c'è crisi, però secondo me proprio perché c'è crisi bisogna essere bravi, in ottimo a vedere fuori e a provare a reinventarsi un pochino un lavoro, un futuro, in un mondo che è comunque sicuramente cambiato. Le 500 resta nel suo primo amore, ma presto, dice, si dedicherà anche ad altre auto d'epoca molto costose. Grazie. Grazie.